Con 586 sì e 100 no, il Bundestag ha approvato le forniture di armi pesanti all'Ucraina, ma pure un monito a Pechino perché non sostenga la Russia nella guerra. Una decisione accolta con grande soddisfazione a Kiev. Il capo dei negoziatori, Mikhailo Podoliak, elogia questa dimostrazione di unità a Berlino. Questo voto passerà alla storia come uno degli ultimi chiodi nella bara delle lobby di Putin in Europa e come il ritorno della leadership tedesca, ha scritto su Twitter. E mentre il cancelliere Scholz dichiara che la Germania si sta preparando ad affrontare lo stop alle importazioni di gas russo, l'Unione Europea ancora discute sul sesto pacchetto di sanzioni che potrebbe essere adottato la prossima settimana. Il nodo cruciale restano le forniture energetiche. Solo il petrolio dovrebbe essere compreso, ma non è chiaro se ci sarà un blocco dell'import o una serie di dazi. Punta invece a confiscare i beni di quella che chiama la cleptocrazia russa Joe Biden, che attende il via libera dal congresso per creare un'autority che colpisca i patrimoni dei magnati. Ma la Casa Bianca ha pure chiesto di autorizzare uno stanziamento per fornire aiuti a Kiev di 30 miliardi di dollari, di cui 20 destinati al settore militare. Da Mosca, mentre il Ministero degli Esteri accusa i paesi Nato di fomentare gli attacchi delle forze armate ucraine contro la Russia, il portavoce del Kremlino, Peskov, afferma che gli invii di armi all'Ucraina minacciano la sicurezza europea. Intanto il presidente turco Erdogan continua a vestire i panni del mediatore, forte anche dell'investitura ricevuta dal segretario dell'ONU Guterres. Oggi ha chiamato Putin ribadendo la propria disponibilità a lavorare per una pace che, purtroppo, appare ancora lontana.